A noi italiani la politica interessa sempre meno. E dov'è la notizia, direte voi? In effetti il rapporto appena sfornato dall'Istat conferma una sensazione annosa e diffusa. I cittadini che non partecipano alla vita politica aumentano dal 18,9% del 2014 al 23,2% del 2019. E comunque chi si interessa lo fa per lo più in forma indiretta, quasi il 75%, solo l'8% in prima persona, seguendo un comizio o partecipando a un corteo. Tutti o quasi chiusi in casa a fare zapping in tv o navigare in rete. Per informarsi di politica ormai più del 40% usa internet, mentre i giornali vengono letti sempre meno. Ma c'è una minoranza crescente che di politica non ne vuol proprio sapere. Quasi il 28% di chi ha più di 14 anni, cioè 12 milioni di persone, che stanno alla larga soprattutto per disinteresse, ma anche per sfiducia nel sistema. Secondo l'indagine Istat, le donne si informano meno di politica, soprattutto a una certa età e al sud, ma le ragazze partecipano ai cortei più dei loro coetanei e si informano meglio, cioè attingendo a più fonti. Ma in generale si usa un solo canale, che per gli italiani resta la televisione.